Buongiorno benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense sabato 21 agosto partiamo con la cronaca ci spostiamo i lidi tanta paura ieri per un bambino di sei anni che ha rischiato di annegare nel mare nel tratto di spiaggia libera in via dei 1000 a Porto Garibaldi attorno alla mezza di ieri il piccolo si trovava in acqua in evidente stato di difficoltà intervenuti i bagnini ma anche i bagnanti presenti spiaggia libera per riportarlo a riva immediato l'arrivo dei sanitari allertati dai presenti che sono intervenuti appunto i sanitari anche con l'elissocorso sul posto anche la guardia costiera di Porto Garibaldi i sanitari sono riusciti a rianimare il piccolo e è stato trasportato appunto con l'elissocorso d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cona dove si trova tuttora sotto osservazione e sono ancora in via di accertamento le cause che hanno provocato sempre ieri l'incendio nel vano motore di un bus extraurbano di Tiper della linea 331 a Lido degli Estensi il bus sul quale si è sviluppato l'incendio era stato immatricolato nel 2010 ed era stato sottoposto alla periodica revisione annuale dello scorso mese di luglio il conducente appena si è reso conto del fumo ha prontamente fermato il bus aprendo le porte facendo scendere i passeggeri in sicurezza invitandoli ad allontanarsi poi ha allertato i vigili del fuoco 112 e centrale operativa del servizio l'intero bus è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti e il sistema di auto estinzione presente sul mezzo pur attivandosi non è stato sufficiente a contenere l'incendio che è stato spento poi dai vigili del fuoco il calore ha danneggiato anche un paio di vetture in sosta causando la rottura dei vetri nessuna persona ha subito danni la centrale operativa di Tipera ha inviato subito un bus sostitutivo per i passeggeri diretti a Ferrara arrivato in circa 20 minuti ora parliamo dell'incontro in prefettura che si è tenuto per parlare dello stadio Mazza dopo il sequestro preventivo della struttura che è avvenuto mercoledì scorso il vice prefetto Pinuccia Niglio ha presieduto la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale sono stati esaminati in vista dell'imminente inizio del campionato di calcio di serie B della SPAL gli attuali profili di gestione dell'ordine e della sicurezza dello stadio Paolo Mazza di Ferrara dopo le note vicende connesse al sequestro preventivo di parte dell'impianto disposta dall'autorità giudiziaria erano presenti all'incontro il vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi il questore Cesare Capocasa, il comandante provinciale interinale dei Carabinieri Fabrizio Gubbiotti il comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D'Elia e il direttore generale della SPAL Andrea Gazzoli l'incontro ha permesso di effettuare un primo approfondimento sulle possibili ricadute che il sequestro potrà determinare in termini di concreto utilizzo dell'impianto tenendo anche conto delle norme previste in materia dell'ordinamento sportivo e dei provvedimenti governativi anti-covid che impongono limitazione alla capienza in pianti sportivi fino al 50% di quella massima con obbligo di sistemazione scacchiera degli spettatori sugli spalti alla termine della riunione improntata alla massima collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza, comuni di Ferrara e società SPAL rispettivamente proprietario e gestione dell'impianto è stata condivisa su specifica richiesta del questore la necessità di avviare fin da subito un percorso che coinvolga anche l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive l'organo di consulenza tecnico-amministrativa istituito presso il Ministero dell'Interno Italiano per l'attuazione delle disposizioni e delle misure organizzative e di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive è stata inoltre convocata per il prossimo martedì 24 agosto la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la verifica di agibilità della proposta progettuale che sarà presentata dal Comune di Ferrara per la gestione e sicurezza dell'impianto a limitata capienza Cambiamo ora argomento con una riflessione sul coraggio di dire io tema scelto per la 42esima edizione della Care Mess che ogni anno segna ritorno sulla scena della politica dopo la pausa estiva ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto il meeting di comunione e liberazione che si tiene a Rimini la prima grande manifestazione in presenza dell'era Covid vaccinarsi è un dovere è l'unico strumento efficace ha detto Mattarella il vaccino è un dovere per tutti un atto d'amore per le persone più deboli sono queste le parole usate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione oggi della nuova edizione del meeting di Rimini e il tema dei vaccini è quello che tiene banco in queste ore anche nel mondo della scuola la Regione Emilia-Romagna come tutte le regioni italiane ha consegnato in queste ore nelle mani del generale Figliuolo il documento richiesto in cui si attesta che oltre il 94% del personale scolastico in Regione possiede il Green Pass e quindi risulta immunizzato senza la prima dose restano ancora 5.700 persone almeno fino all'inizio dell'anno scolastico su cui il futuro si sta discutendo a Longiano invece in provincia di Cesena un'azienda ha appeso alla bacheca la comunicazione che obbliga i lavoratori non vaccinati ad un tampone da eseguire a proprie spese e al costo di 25 euro che verranno poi detratti dallo stipendio di fine mese la denuncia arriva dai sindacati che hanno chiesto un intervento tempestivo del governo come ogni venerdì è anche tempo di bilanci settimanali sul numero dei contagi ed anche qui arriva una conferma nessuna regione italiana al momento passerà in zona gialla confermando così per tutte il colore bianco in Emilia Romagna una donna di 68 anni non vaccinata è deceduta dopo 4 giorni di terapia intensiva a causa di una polmonite covid l'unico decesso rilevato oggi negli ospedali del nostro territorio i contagi invece crescono e sono circa 637 nuovi positivi rilevati con 24.000 tamponi la situazione dei contagi nelle province vede Modena con 123 nuovi casi quindi Bologna 117 e Rimini con 72 calo dei ricoveri in terapia intensiva di 3 unità e di 2 negli altri reparti covid e a Ferrara in provincia si registra un calo dei nuovi contagi da covid-19 superato questo numero appunto dal numero invece delle persone che sono guarite dal virus intanto continua la campagna vaccinale su tutto il territorio ancora un leggero calo a Ferrara e provincia per quanto concerne i nuovi contagi da covid-19 nel bollettino odierno sono registrati 34 nuovi casi 10 in meno nelle ultime 24 ore di cui solamente 8 presentano sintomi sono invece 46 nuovi guariti comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica i nuovi 34 casi con un'età media di circa 35 anni sono stati individuati con 252 tamponi refertati nel bollettino del 19 agosto ci sono anche 5 nuovi ricoveri per positività al covid attualmente al Sant'Anna di Ferrara a Cona sono 44 i posti letto occupati di cui 8 in terapia intensiva mentre all'ospedale del Delta di Lago Santo sempre per covid sono 9 le persone ricoverate in Emilia Romagna sono 637 nuovi casi di coronavirus rilevati su quasi 24.000 tamponi nelle ultime 24 ore i pazienti covid ricoverati sono in lieve calo sia nelle terapie intensive che negli altri reparti ospedalieri si registra però ancora una vittima una donna di 68 anni della provincia di Bologna non vaccinata intanto continua la campagna vaccinale a Ferrara e provincia nella giornata di giovedì 19 agosto sono state effettuate 2.326 vaccinazioni mentre dal 27 dicembre complessivamente sono state 452.727 le dosi somministrate di cui 208 161 seconde dosi ora la cronaca perché i finanzieri del comando provinciale di Ferrara hanno scoperto e quindi denunciato 22 furbetti che hanno ottenuto illecitamente il reddito di cittadinanza per un totale di 160.000 euro erano riusciti ad ottenere il reddito di cittadinanza utilizzando dichiarazioni e documenti falsi oppure senza fornire le informazioni dovute nella dichiarazione di sostituzione unica ma sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Ferrara e quindi denunciati a finire nei guai 22 persone che erano riuscite in maniera illecita ad accapparrarsi in totale circa 160.000 euro l'attività investigativa delle fiamme gialle di via Palestro ha preso il via con un primo filone con un controllo dei redditi e il patrimonio di una ventina di persone attraverso le banche date in uso alla Guardia di Finanza si tratta di 18 cittadini stranieri 4 romeni, 4 pakistani, 4 afghani, 3 nigeriani, 2 bengalesi e un siriano che hanno falsamente autocertificato di essere residenti in Italia da tempo e di percepire anche sussidi mensili ma per ottenere il reddito di cittadinanza serve un doppio requisito per i cittadini stranieri che devono avere la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della presentazione della domanda oltre al possesso della cittadinanza in un paese dell'Unione Europea oppure di un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo per gli extracomunitari il nucleo di pulizia economico-finanziare di Ferrara ha inoltre scoperto e quindi denunciato anche 4 extracomunitari 3 di nazionalità nigeriana e 1 albanese che nella loro dichiarazione di sostituzione unica hanno falsamente attestato di essere disoccupati mentre di fatto risultavano titolari di attività commerciali ambulanti, rivenditori d'auto, titolari di imprese di pulizia attività dalle quali traggono il sostentamento per le loro famiglie oltre alla denuncia i furbetti del reddito di cittadinanza sono stati anche segnalati all'Inps per la revoca e la sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate e su questa vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ferrara i fondi percepiti illecitamente sono fondi sottratti alla collettività e ai servizi e mi auguro che siano restituiti in tempi rapidi fino all'ultimo centesimo e con gli interessi ha sottolineato Alan Fabri che ha ringraziato per l'operazione eseguita appunto ai finanzieri dispiace che i cittadini stranieri individuati dalla Guardia di Finanza abbiano interpretato in questo modo l'accoglienza non è questo il nostro concetto di ospitalità che invece continua Fabri si basa sul rispetto delle regole sul lavoro, sull'integrazione e sul contributo costruttivo alla via della comunità e ora parliamo del parco urbano ma anche dei centri vaccinali sia a Ferrara ma anche in regione dove i gnoti hanno imbrattato appunto cartelli e dicevamo i centri vaccinali con la scritta No Green Pass Nella notte qualche Novax ha pensato bene di imbrattare alcune sedi vaccinali a Cesena, Ravenna e San Pietro in vincoli il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini denuncia così sui social quanto accaduto nelle ultime ore sottolineando che sono azioni che si commentano da sole oltre ad esprimere vicinanza agli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro enorme Bonaccini rimarca al fatto che il 75% degli over 12 anni ha già ricevuto una dose oltre il 65% è già vaccinato completamente e dentro fine settembre si confida di arrivare all'80% intanto un episodio analogo è accaduto anche a Ferrara il luogo è il parco urbano Bassani dove i gnoti hanno imbrattato i cartelli del percorso salute e del chioschetto con la scritta No Green Pass e con una mezza svastica Ora parliamo dell'Afghanistan della situazione in Afghanistan perché a Ferrara e sul territorio provinciale si stanno organizzando diverse iniziative con delle mobilitazioni per venire incontro appunto al popolo afgano e alla loro accoglienza sentiamo Crescono le iniziative e le mobilitazioni a sostegno del popolo afgano non possiamo rimanere indifferenti a ciò che dichiarano associazioni sindacati, politici e religiosi tra le tante attività in programma lunedì 23 agosto alle 18 la CGL regionale scenderà in piazza del Nettuno a Bologna per chiedere al governo italiano all'Unione Europea e alle istituzioni internazionali di attivare corridoi umanitari per portare in salvo coloro che sono in pericolo e rischiano la propria vita richiesta analoga a quelle che si terranno il giorno seguente martedì 24 sempre alle 18 in piazza 33 Est a Ferrara con un presidio organizzato dalla Rete per la Pace di Ferrara le parrocchie dell'Arcidiocesi di Ferrara Comacchio invece aderiranno ad un invito della CEI organizzando una preghiera domenica 22 agosto per non dimenticare il dramma dell'Afghanistan e di Haiti colpito dal terremoto tramite la Caritas diocesana si organizzano raccolte fondi per sostenere entrambe le popolazioni intanto l'organizzazione del Ferrara Baskers Festival rende noto che parte del ricavato dell'evento che si terrà la prossima settimana verrà devoluto alla Fondazione Pangea Onlus che opera a Kabul dal 2003 con progetti rivolti a donne e bambini e a livello politico le consigliere comunali Ilaria Baraldi Caterina Ferri Deanna Marescotti e Anna Chiappini della Commissione Pari Opportunità chiedono alla Presidente Paola Peruffo la convocazione della Commissione alla quale invitare le associazioni femminili attive sul territorio le quali saranno certamente coinvolte nella gestione dell'accoglienza e del supporto alle donne e alle bambine afghane una volta che saranno arrivate a Ferrara Ora parliamo della raccolta firme da parte di Più Europa anche Più Europa Ferrara torna in piazza oggi e domani domenica 22 agosto zona appunto Duomo piazza appunto è sul listone dalle ore 17 alle ore 20 per raccogliere le firme dei ferraresi per l'eutanasia legale l'obiettivo è di raccoglierne più di 750 mila ma vogliamo andare anche oltre spiega il coordinatore di Ferrara Mario Zamorani per far capire quanto le persone siano avanti e pronte a decidere su come essere libere fino alla fine della vita ha sottolineato il coordinatore di Più Europa Ferrara e manca davvero poco all'inizio del Ferrara Basket Festival con era la festa è più sostenibile spiega la Multi Utility Cambia la sede ma non lo spirito del Ferrara Basket Festival così come non cambia neppure l'impegno che il gruppo era ogni anno mette in campo per rendere ancora più sostenibile uno degli eventi più importanti della città al Parco Mazzari sarà presente l'immancabile sorgente urbana di acqua sia naturale che frizzante oltre a ciò diverse le attività sui temi ambientali dedicate alla sostenibilità al Festival ci sarà la possibilità di costruire veri e propri strumenti musicali a partire da materiali di recupero così da accompagnare i baskers con flauti tamburi e xilofoni autoprodotti i bambini tra i 3 e 10 anni potranno cimentarsi sul ring della raccolta differenziata dove in una sfida all'ultimo rifiuto dovranno smistare tra 4 contenitori gli oggetti presenti sul campo di gioco i ragazzi fino ai 14 anni invece potranno competere per trovare l'intruso all'interno di un cassonetto reso trasparente per l'occasione e tentare quindi di fare luce sul mondo dei rifiuti e capire l'importanza della raccolta differenziata di qualità infine tutti i visitatori del Festival potranno partecipare alla caccia al tesoro organizzata dalle autisti di ERA gli stessi protagonisti della serie di pillole e quelli che le cose le fanno fatte bene visibili su YouTube saranno proprio loro a proporre ai partecipanti alcune domande e ogni risposta corretta corrisponderà un punteggio i punti accumulati daranno la possibilità di ricevere premi anche se naturalmente green allora parliamo ora di ambiente di tartarughe marine che insomma sono un po' a rischio di estinzione ma c'è uno studio dell'Università di Ferrara che insomma tenta di proteggerle vediamo le tartarughe marine sono i rettili viventi più antichi al mondo ma oggi la loro sopravvivenza è a rischio sei delle sette specie esistenti infatti sono classificate come minacciate o in via di estinzione per proteggerle è necessario conoscere meglio gli effetti dell'accoppiamento interspecie o ibridazione che potrebbe dare vita a esemplari poco fertili o sterili proprio questo fenomeno è al centro dello studio di Tartolive il progetto condotto dall'Università di Ferrara secondo gli esperti attività come il braconaggio il commercio delle uova il cambiamento climatico avrebbero reso via via più rara la possibilità che due esemplari appartenenti alla stessa specie possano incontrarsi nel corso della loro vita così oggi accade ad esempio che esemplari di eretmo chelis imbricata e esemplari di caretta caretta due specie che dal punto di vista evolutivo distano circa 30 milioni di anni si stiano nuovamente incrociando sulla costa nord-est del Brasile con il progetto Unife si sta analizzando il genoma completo degli esemplari così da chiarire se l'ibridazione sia un evento ricorrente nella storia delle tartarughe e se abbia effettivamente conferito vantaggi di sopravvivenza e anche l'importazione di particolari geni l'incrocio ripetuto delle due specie per gli esperti potrebbe influenzare le prospettive riproduttive e quindi di sopravvivenza delle popolazioni future uno studio simile potrebbe essere condotto anche sulle balene ora prima di chiudere la SPAL perché dopo la firma di Mancosu arriva quella di Capradossi la SPAL ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto a determinate condizioni dallo spezia a calcio le prestazioni sportive del difensore Elio Capradossi classe 1996 nato in Uganda Capradossi ha scalato tutte le giovanili della Roma fino ad arrivare nella stagione 2015-2016 da capitano a vincere il campionato primavera nell'estate 2016 si è trasferito in prestito al Bari dove è esordito nei professionisti rientrato alla Roma nel 2018 squadra con cui ha esordito in Serie A nel luglio del 2018 è passato allo spezia col club ligure ha collezionato 51 presenze con 5 reti all'attivo importante anche la sua esperienza in azzurro con l'Under 17 ha partecipato all'Europeo di categoria Slovacchia nel 2013 conseguendo la medaglia d'argetto con questo è davvero tutto naturalmente chiudiamo qua il TV giornale per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito la pagina Facebook e al nostro canale YouTube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti